Dunque è un piacere parlare di belcani, qualsiasi essi siano. Ovviamente la mia razza sono i bulldog e mi perdono di essere un esperto, anche perché giudicando dal 1978 un po' di esperienza. In questa razza, dalla parte inglese, sono state fatte tre revisioni negli ultimi vent'anni. Revisioni atte a dare alla razza più salute. La dimostrazione oggi, in un ring numeroso, caldo, i cani hanno la bocca chiusa, respirano benissimo e fanno mostra di sé al pari di razze celebrate, come i box ed altri, che sembra che respirino meglio, ma in realtà non respirano meglio. La razza è arrivata a un punto chiave dello sviluppo, tant'è che la sua popolarità adesso è anche tra coloro che vogliono avere un cane sano da tenere in casa. Certo, non è il cane, non è un bassottolo, non è un levriero, però niente da fare. Questo cane è venuto, è presentato oggi da un allevatore conosciuto spagnolo, ma è un cane che ha già vinto molto, perché quando si giudica un cane importante, ma lo bene ne si conosce anche un po' la storia. Perché? Perché si segue internet, perché si seguono le fotografie, perché si va su Facebook e si cerca di abbinare sempre il bello con anche il piacere di averlo. Per me giudicare è un hobby, è come tale, lo prendo, però quando vedo un bel cane sento ancora dell'emozione. Questo è un cane al limite superiore alla taglia. Vuol dire che i famosi 25 kg qua si lasciano un po' desiderare, però con consuetudine inglese siamo arrivati ormai che lo standard accetta 27-28 kg come standard. Quando sono un po' di più l'importante è che sia bilanciato. Questo cane ha una testa assolutamente in tono, in proporzione con il tronco, che è un tronco importante, con i diametri trasversali fantastici, il radio drittissimo, perché il radio una volta aveva questo elbow, che però è un'ipoplasia del muscolo, ma non c'è più. Allora un anteriore così dritto, con un metacarpo così corto e forte per un cane di questa stazza è veramente una cosa fantastica. Il collo è targato e cataurino, perché se fosse un collo corto, un cane così, non risentirebbe nella salute, perché probabilmente respirando con più fatica avrebbe una vita più breve. Oggigiorno lo standard richiede, e purtroppo non tutti seguono queste direttive, che i difetti che offendono la salutistica, che sono nocivi alla salute del cane, vengano amplificati. Allora come si fa? C'è un esempio, i vecchi a scuola inglese vedono una mandibola appena deviata, e mettono un cane in terza fila, e poi magari il cane ha un pelo lungo, un pelo che è prono alle dermatiti, oppure ha un occhio incassato, un occhio che porta all'acciste degli occhi. E poi abbiamo bisogno dei piedi ben serrati, perché se il piede non è serrato, si formano dei pori, dei buchi sotto, che attirano come calamite, sporcizia, cose infettive, eccetera. Direi che oggigiorno un cane di questo livello è un cane per tutte le stagioni. Va bene in Italia, va bene in Spagna, va bene dappertutto, e auguro che molti altri, come me, apprezzino la qualità intrinsella di questo cane. Questo è un buon ambasciatore, un ottimo ambasciatore della razza. Spero semplicemente che anche la sua progenie abbia le stesse valenze, perché adesso l'esame del 9 non è il prossimo CACIB, ne potrà fare 20.000, e che cosa riprodurrà? Si usa molto l'imbreeding e l'outcrossing, ma alla fine il dominante è il fenotipo, per cui questo cane, per poter essere considerato nel futuro un grande riproduttore, deve o migliorare la femmina nelle sue caratteristiche, o imporre la sua genetica. Se questo succederà, e non succede spesso, e non succede necessariamente perché sono due cani belli, avremo un campione e un campione riproduttore, che poi è quello che fa continuare la razza. Cani così, a questa età, quanto tempo ha, Gheorghe, questo cane? Due anni. Due anni, ha davanti a sei, quattro o cinque anni di gloria riproduttiva, e gli auguro tantissima fortuna. Grazie. Grazie.